ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube adesso andiamo a vedere questo nuovo video se volete condividetelo lasciate un like e se non vi siete ancora iscritti al canale potete farlo se vi va naturalmente bene seguitemi allora vado a fare questo questo pane pane del sud che ho visto fare a fulvio marino soltanto così personalizzato un pochino la ricetta vedete sto bagnando le due farine lo miscelate ma se volete potete anche usare soltanto la semola rimacinata quindi bagno per venino per fare un autolisi la semola beve molta molta acqua l'importante è metterla piano piano e farla assorbire farla assorbire lentamente giro così con il cucchiaio vedete avevo messo 400 grammi poi mi regola naturalmente se ce ne vogliono di più magari posso anche aggiungere ancora più acqua ecco qua direi che così basta giro ancora con il cucchiaio poi una volta fatta assorbire copro e faccio riposare un'ora passato il tempo vedete sto mettendo la pasta madre a pezzettini oddio in questa ricetta ci sarebbe stato meglio il licoli io metto 100 grammi di pasta madre solida però se volete usare il licoli mettetene di meno naturalmente 80 grammi magari aggiungendo 10 grammi di farina in più o togliendo 10 grammi di acqua come sapete non sono così precisina io con le dosi e vado anche un pochino ad occhio allora continuo a mettere acqua e procedo così impasto così con il pugno o se volete naturalmente potete usare la planetaria continuo impasto per benino l'acqua ne lascio appena un pochino per aggiungere quando metterò fra un po il sale una volta impastato per benino naturalmente i tempi prendetevi il tempo che ci vuole io qui accorciato ho messo il sale e aggiunto tutta l'acqua quindi io ho messo 400 grammi di acqua però voi come ho detto prima regolatevi se l'impasto ancora un po duretto aggiungete altri 10 grammi quindi controllate bene anche ad occhio allora continuo così facendo delle pieghe impastando allora adesso sotto ci metterò un po d'olio senza che sto lì a cambiare il recipiente mettiamo un goccino d'olio giusto per non far attaccare l'impasto ok come vedete ancora un po grezzo quindi impasto un altro pochino poi copro e lo lascio un'oretta eccolo qua adesso ci faccio ancora dei giri di pieghe in questo modo e poi questo impasto la ricetta prevede 12 ore di frigo io l'ho tenuto un po' diciamo tutta la notte ecco se fate il pomeriggio come me l'ho tenuto un pochino fuori poi l'ho messo in frigo e poi l'ho tirato prima delle 12 ore fuori e tenuto a temperatura ambiente ed eccolo qua adesso lo giro sul piano di lavoro ci metto un po di farina mettete la semola io l'ho terminata ho messo la farina devo fare il rifornimento e adesso farò una preforma quindi una formatura così diciamo veloce e lo metterò e metterò questo impasto ancora lievitare ecco qua molto semplice avete visto lo metto sopra un telo su un vassoio dove volete per farlo ancora lievitare minimo un'ora ma io ci ho messo l'ho tenuto due ore quindi quando l'ho visto bello gonfio procedo alla alla formatura finale ok vedete si è gonfiato e adesso per fare farò questa forma un po' un po' strana diciamo così che assomiglia un po' al pane di altamura ma non è proprio quello ecco perché pane del sud fulvio marino l'ha chiamato pane del sud e li assomiglia ma non è non è quella forma quindi piego in questo modo avvicino così vedete meglio ok piego ancora così e adesso al centro una volta piegato vado con il braccio ad abbassare poi lo piego semplicemente così ecco qua il pane di altamura a questo punto va tagliato sul canale c'è ci sono dei video se volete vedere questo invece va lasciato proprio così piegato e basta io lo copro e lo lascio all'incirca 30 minuti il tempo di far scaldare il forno una volta portato il forno a temperatura a 250 gradi eccolo qua lo lascio a questa temperatura per 15 minuti all'incirca come vedo si colorisce un pochino il pane che prende colore abbasso a 230 e poi mano a mano a 220 fino a 200 gradi ed eccolo qua dopo all'incirca 50 minuti ma gli ultimi 10 minuti ho lasciato il forno a spiffero ho aperto un pochino poco qua con lo sportello ci ho messo il guanto e l'ho lasciato aperto lo faccio freddare e poi vado a tagliare bene amici io direi che è venuto molto bene è molto croccante e dentro è morbido spero che questo video vi sia piaciuto vi invito a condividere il video a lasciare un like e a commentare sotto il video se viva ciao a tutti ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao